E così lo vedemmo volar via, trascinato nel vento, frenando appena la corsa del pallone e sparire verso il mare. Siamo a tre settimane dall'esame di scuola media, ma l'hai sicuro di farci? Sì, preste. Quadra, chi va a rubare? Va a faticare. Dobbiamo togliere le perle, porci. Molli a tre settimane dall'esame, tieni tutto sufficienza. Io ho già faticato. Tu sei brava. Il figlio di Paolo Brusciani. Hai parlato con tuo padre? Non ti posso nascondere, sempre. Io sono restato a dormire qua, questa sera. Ma a caso sta tuo fratello che ti aspetta? Ma chi mi aspetta a me? Chi mi aspetta? Devi creare una distanza. E come si fa? Tu lo sai come si fa. Noi stiamo dalla stessa parte. Se stiamo dalla stessa parte, allora affidate la mano. E dove lo metti? Nella biblioteca dove avete organizzato il vostro circo. Secondo me c'è una gruata. Loro sono forti, ma le famiglie hanno paura. Ogni tanto non ti vedi che te la voglia d'andartene. Anna, tu non la vedi, io invece sì. Che cosa? La bellezza.